Un saluto a tutti. Ticchiolatura. Per il melo il volo dell'escospore è terminato ed è quindi finito il rischio di infezioni primarie. Sul pero il potenziale di inoculo è al 95% e quindi abbiamo, anche se scarso, un rischio di infezioni primarie sulle prossime piogge. Su entrambi le colture è alto il rischio di infezioni secondarie in caso di bagnature prolungate. Maculatura bruna. Sono iniziate le condizioni meteo favorevoli alla produzione di conidi infettanti. Al momento però la produzione di queste spore non ha ancora superato la soglia di rischio. Da modello il rischio legato alle condizioni di bagnatura si sta abbassando. Colpo di fuoco. In questi giorni vengono segnalati alcuni casi di infezioni su degli impianti di melo e anche in questi casi l'operazione più importante da farsi è la repentina pulizia, tagliando i getti colpiti e bruciandoli in azienda senza tanto spostarli allo scopo di salvaguardare la sanità delle piante non ancora colpite. Al momento il rischio da modello è basso e si alzerà solamente dopo prolungate bagnature. Allora in quel caso sarà importantissimo stare attenti in tutte quelle aziende in cui erano presenti vecchi cancri, in cui sono presenti forti rifioriture, in cui si verificheranno se ci saranno delle grandinate. E ora ascoltiamo il medico delle piante con l'indicazione della difesa dai funghi delle pomace. Innanzitutto buongiorno anche da parte mia. Io vorrei iniziare parlando di ticchiolatura che sicuramente è la patologia che in questo primo scorcio di stagione ci ha creato i maggiori problemi. Abbiamo infatti infezioni in atto sia su melo che probabilmente soprattutto su pero ed in modo particolare sulla cultivar Kaiser. Direi che la notizia buona è che con le piogge della scorsa settimana praticamente sono finite le infezioni primarie, mentre la notizia meno buona è quella che sono in corso in questo momento infezioni secondarie che chiaramente comportano problemi e attenzione da parte nostra. Il discorso è per chi è pulito in questo momento, quindi non ha infezioni di ticchiolatura, si possono rimandare gli interventi dopo piogge significative, mentre invece chi ha infezioni in atto è corretto che mantenga coperta la vegetazione. I prodotti sono fondamentalmente Dodina e Delan, ricordando che probabilmente è meglio integrare questi prodotti con prodotti a base di rame, sotto forma di poltiglia per garantire la miglior selettività possibile sulle nostre piante oppure con prodotti a base di zolfo per migliorare e completare l'azione dei prodotti che vi ho citato poco fa. Sicuramente sconsigliamo l'applicazione in questa fase dei cosiddetti prodotti sistemici perché è notorio che garantiscono una buona copertura sulla foglia, ma non sui frutti che invece chiaramente in questo momento sono il nostro target principale. L'altra malattia, parliamo di pero esclusivamente e avete capito che sto parlando della maculatura bruna, per dire che invece in questo caso oggi la situazione è assolutamente sotto controllo, non abbiamo segnalazione di infezioni in atto, però è chiaro che ci avviciniamo ad un momento abbastanza critico che noi abbiamo individuato nel momento in cui le temperature andranno sopra i 16 gradi e in coincidenza avremo o piogge o comunque bagnature importanti. Per questo motivo vi consigliamo nei prossimi giorni di mantenere coperta la vegetazione ricorrendo almeno sulle cultivar più sensibili che lo sapete sono Abate, Conference e Decana ai prodotti di copertura, i più normali che possiamo usare che sono lo Ziram, il TMTD e il Captano. Se facciamo uso di TMTD e di Captano dobbiamo ricordare che questi prodotti non sono compatibili con l'olio, l'olio che tra un po' ne parleremo anche più avanti nel corso di questa puntata, andremo a fare in miscela con l'Aba Mectina nella difesa per la Psilla. Questa incompatibilità ci mette nelle condizioni di preferire prodotti come appunto lo Ziram in questa fase che non presentano questo tipo di problema.